ciao a tutti ragazzi eccoci qua anche oggi con una nuova video reaction e oggi siamo qua con un video che non so chi mi ha mandato ragazzi perché ho fatto su un po' di casino è colpa mia mi scuso con voi per i video che vedremo tipo in questo video perché mi avete inviato i video io ho screenshotato il video ma non ho screenshotato il nome delle persone quindi non so più chi me l'ha mandato quindi veramente scusatemi però comunque li sto guardando perché sembrano delle cose abbastanza carine soprattutto perché questa volta ne ho da guardare tre ma probabilmente due li guarderò in questo video uno in un prossimo video perché è un po' effettivamente troppo lungo ma solamente uno è di un canale che abbiamo già visto gli altri sono di due canali che per me sono completamente una novità e direi di andare a vedere questo qui che è di allegria e diversione non so come si legga portate pazienza non ne ho proprio idea ma è un canale credo privato nel senso personale tipo come il mio non tipo five minute craft e quelle cose lì ha 306 visualizzazioni gli iscritti non si possono vedere quindi credo che sia una cosa fatta tipo come quelle che appunto faccio io e questa cosa mi piace da morire il video si chiama come pintare il pelo de barbie con papel crepe credo che sia come tingere i capelli a barbie con la carta crespa credo comunque vi lascio qui sotto nell'info box come sempre il link per andare a vederlo e anche per correttezza ma direi di partire subito perché mi è stato detto che è un video abbastanza particolare e che utilizzano una pentola quindi vediamo dove sarà questa pentola allora comincia ovviamente come sempre muto con questo tizio che ha questa barbie con i codini tizio tizia non lo so insomma vabbè oddio perché barbie sta avendo un attacco epilettico ah è l'intro ok sì allora no usa la carta velina colorata non la carta crespa e ce l'ha dentro questi due contenitori vabbè ok fa un po di estri comunque è una ragazza credo visto le unghie piene di glitter che non vuol dire niente però insomma credo che sia così cosa sta facendo paso 1 quindi primo passo intanto è vestita con gli come si chiamano non mi viene il nome con i palloncini ecco adesso andrà a mummificare barbie con il cellophane la pellicola trasparente a copre bene anche i capelli quindi lascia fuori praticamente solo le codine copre la base dei capelli ok barbie è completamente mummificata per fortuna che non respira perché sennò sarebbe tipo morta soffocata sì abbiamo capito che lei mummificata che è tutta sigillata possiamo andare avanti ok passo 2 cioè secondo passaggio con un adulto mette dell'acqua dentro questa carta velina che ovviamente rilascia il colore la carta velina anche solo se la prendiamo in mano e facciamo così rilascia il colore quindi secondo me ho capito vuole fare tipo harley queen perché con questi colori sulle codine e schiaccia un po con il mestolo in modo da far uscire suppongo tutto il colore dalla carta sì abbiamo visto possiamo proseguire adesso ha preso degli elastici lega i due ciuffettini sulla fronte quelli qui davanti per far cosa non si sa terzo passaggio unire le codine perché unire le codine sta infilando praticamente tutta la punta dei capelli di questa barbie delle due codine nel liquido fucsia ma non mi pare stia funzionando molto vi dico la verità ma cosa sta venendo fuori ma non sono tinti sono solamente un pochino riflessati che poi secondo me appena vai a lavarli tipo torna come prima ecco mi è mutato per terra anche un po di colore e adesso ha una ma vuoi dirmi che fa solo il ciuffettino si fa solo il ciuffo con l'azzurro c'è tutta quella cosa grossa così di acqua e carta per un ciuffettino di quattro peli quarto passaggio vediamo cosa fa la mette su della carta igienica e credo la lascia asciugare così credo sì ok e cos'è cambiato allora i ciuffettini davanti hanno una leggera sfumatura verde sulle punte che mi sembra anche alquanto bruttina sono curioso di vedere quelli rosa perché non mi pare proprio siano rosa cosa sta facendo arrotola le codine ma se non sono colorate ma scusate ma perché c'è c'è tutta sta roba per avere un leggero riflesso rosellino a no c'è anche il quinto passaggio quale sarà c'è ma è bello che ti mette anche la foto come se il risultato fosse figo ma ci siamo capiti ok si toglie il cielo fa nel coso lì a no no sì che è vestita con il coso con il palloncino infatti ti fa vedere anche come creare i vestiti col palloncino vabbè però ragazzi direi che anche no tutta sta roba per questo risultato che non c'è no io speravo ve lo giuro speravo in un metodo magari più economico di quelli che conosco io dei pennarelli per stoffa di dei colori delle tinte per stoffa però no questo anche no però visto che questo è durato poco e avendolo tagliato in editing sicuramente sarà durato ancora meno io direi di far partire subito anche il 25 di y miniature x craft for britney si britney ho la maglia con scritto britney e quindi mi viene da dire britney ma è barbie non britney vabbè 25 miniature x and craft for barbie i golden shoes quindi scarpe dorate in teoria questo è per me e questo invece è di pipe cleaner craft b 4,9 milioni di iscritti porca troia e a 19 milioni di visualizzazioni c'è roba che mi sogno vabbè speriamo che siano cose fighe allora magari qualche idea veramente carina facciamo partire iniziamo con delle robe a no ok penso che questa parte sia tipo l'introduzione di quello che vedremo nel video allora iniziamo con ma sono troppo veloci non si capisce già più una mazza cartoncino carta glitterata mi sono già perso cosa sta facendo la scarpa ok vediamo come vengono fuori queste scarpe anche se comunque questi tutorial potrebbero essere un minimo più relax perché non si capisce una mazza ovvio che poi sembra tutto bello ti rincoglioniscono adesso con la colla a caldo cosa sta facendo sta appiccicando tutto intorno tipo per fare la suola da zeppa sì esatto vabbè non si può dire che faccia proprio schifo però non è neanche sta gran roba questa prende degli spilli e cosa ci fa con gli spilli colla a caldo a tiene praticamente solo la testa degli spilli ci appiccica sopra roba a caso tipo dei glitter un po particolari e li farà diventare orecchini sicuramente boh non si sa non ci è dato a saperlo perché adesso deve fare prima ste cose con i pennarelli e cosa hai fatto adesso col penna dei mini pennarelli ma quelle robe la quindi erano orecchini siamo sicuri perché non ci hanno fatto vedere niente adesso taglia la cartina delle lol salviette o mio dio fan porta salviette mamma mamma ma sono necessarie ste cose carina per carità carina senza dubbio però è questo non l'ho capita anche perché non si può usare è tipo finto scusate sono un attimo rintronato vanno troppo veloce non si capisce niente il risultato sembra anche carino ma perché non sai cosa hanno fatto non l'astuccioli delle lol era anche carino sta roba c'è vedete tac 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 fatto finito una lampada ok con cosa non si sa adesso fa le scarpe tipo mermaid filo intorno ok lo firmerà sotto credo fa tipo delle ciabattine si esatto tremende ma vabbè quelli sono gusti adesso farà un telefono suppongo quella pellicola ai tipo la cover del telefono vabbè tutto molto sicuro bruciamo plastica di qua bruciamo plastica di la bellissimo dei quaderni coi glitter cosa fa con lo spruzzino ma che poi il colmo che queste cose c'è qualcuno che se le inventa e se le inventa bene perché sono comunque ben studiate però non lo so intanto potreste spiegarcene invece di 25 15 è un po più lentamente perché non si capisce una mazza continuerò a dirlo di questo video proprio non si capisce niente tipo adesso come ha fatto a far sta roba che poi cos'è non ho capito cosa sia questo tipo un astuccio col feltro ma questo è carino questo si è molto carino l'astuccio mi è piaciuto con un sacco questo con la penna ma sono molto rintronato ragazzi vi dico la verità tipo sta cosa cos'è dovrebbe sembrare tipo un rossetto infatti si doveva sembrare un rossetto li vendono già fatti i rossetti per barbie direi che sono a posto quella è una bella tecnica però per schiacciare bene la colla a caldo quello se mi piace con il righello bella la borsettina mi piace la borsetta mi piace molto ecco qua con gli scovolini ho già paura farà il mascara vabbè esatto che poi ovviamente barbie non potrà mai tenerli in mano però quelli sono dettagli no il play do no io ho il terrore del play do cosa fa con la cera perché play do e cera che senso aveva a me la specie io non capisco veramente mi qua farà una piantina con un detale ma forse l'avevamo già vista si esatto ma questa è carina ma non ho capito il didò cosa serviva ancora lol questa volta tipo tarocche questo sta prendendo tipo delle pastiglie per metterci dentro delle lol un tronco del cartone non si capisce una mazza questo forse è il più bello che almeno ha un minimo di senso vediamo come prosegue con tutto sto legno ste scalette di legno ha finito così neanche colorato ok e ovviamente sempre per le lol questa cosa zainetto se uno zainetto beh dai carino anche questo non ho capito neanche di questo come l'abbia fatto però è carino ci mette il velcro come l'ha incollato cucito non si sa però ci fa vedere che inserisce e incolla il il manico diciamo se sentite dei rumori strani è la mia gatta che sta cercando di rompere i marroni da tutto il tempo e gratta le sue unghie contro il muro quadernino ok andiamo avanti perché mi sta anche un po annoiando non si capisce niente quando non si capisce niente il mio annoio mi stufo mi da fastidio tutta sta colla a caldo tutti abbiamo un valanghe di colla a caldo in casa però comunque mentre questo va avanti a far roba che io non capirò mai devo ammettere che confronto a five minute craft o trum trum eccetera almeno questi hanno dei risultati effettivamente carini quello bisogna ammetterlo non si capisce come li facciano però almeno sono carini adesso perché ha preso lo scettro e il cerchietto di elsa li ha tagliati per cosa spero li riutilizzi perché si fa roba a caso anche da ok si a ci fai il letto beh dai ragazzi questa è carina questa mi è piaciuta io non avrei mai pensato di poter fare un letto con un cerchietto e due scettrini di elsa carino adesso questa cosa fa un'altra volta uno scovolino no vero sembra quello per il water e invece sarà un altro mascara vedrai per ariel però questa volta esclusivo per ariel facciamo un pennello no ma dai un perché devi tagliare un pennello sì facciamo un pennello per barbie sembra carino sì dai carino l'idea è carina questo mi piace approvato sta cosa boh colora con lo smalto un phon bello ragazzi questo è figo questo è figo questo mi piace veramente un sacco il phon mi è piaciuto tantissimo questo cosa fa non si sa vabbè bruciamo nel dubbio bruciamo plastica che tanto fa sempre bene non inquina neanche un po e cosa dovrebbe essere ah oddio un succo sembrava tipo una roba di metallo specicata due cerniere messe insieme un po di glitter cosa fa un braccialetto con le cerniere no spero rapunzel sarà uno zainetto anche questo suppongo sì esatto no ma allora come vi dicevo le cose di questo video sono anche carine però non si capisce veramente come siano fatte cioè non si riesce a stare dietro alla spiegazione troppo veloce troppo incasinato e poi ci sono delle cose che proprio io non ho capito non mi hanno fatto vedere a cosa sono servite hanno fatto dei passaggi buttati a caso boh non lo so comunque devo dire che il mio preferito di oggi sicuramente rimane il primo quello di come tentare di colorare i capelli di una barbie con la carta velina che ovviamente il risultato è stato alquanto invisibile io vi consiglio sempre i colori per stoffa per colorare i capelli delle barbie assolutamente non utilizzate pennarelli normali perché poi quando si bagnano perdono colore il vinile della faccia assorbe non utilizzate secondo me nient'altro se non i colori per stoffa quelli si fissano e siete sicuri comunque ragazzi direi che sono un pochino sotto shock un po per il primo video e un po per non aver capito una mazza del secondo quindi posso anche salutarvi e ringrazio chi mi ha mandato questi due video anche se scusatemi non mi ricordo appunto i nomi come vi ho detto all'inizio come sempre io spero che questo video vi sia piaciuto vi chiedo di lasciarmi qui sotto un like e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di seguirmi anche su facebook e su instagram io ragazzi vi saluto vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video